Buonasera! Buonasera. Siete qui per lavoro? Sì, siamo avvocati. Bel mestiere del cazzo, il vostro. Vuole iscriversi alla mailing list per i nostri clienti single? No, grazie, sono più legato. Inter in vantaggio! Sì, come dice? Certo, Inter merda! Ah, ma adesso col derby gli facciamo un mazzo così, eh. Li voglio vedere piangere qui, poveretti. Belle soddisfazioni. Eh, pensa che oggi il mio collega si è buttato dalla finestra. No, di tutta façò, io ando con loro. Voglio dire, tu puoi essere anche gentile e carino, ma la francese comunque rimane rigida. Cioè, è come se ci avesse sempre un pane nel culo. Eccoci qua. Le presento Emily Schaumann, che rappresenta la controparte. Ecco. Questa me la devi trovare prima della conclusione delle trattative. Dai che ti faccio socio. Mi chiedevo se avesse degli impegni per la serata. Comunque stai tranquillo. Tranquillo un cazzo. È stato tutto naturale, come se ci conoscessimo da sempre. Ti sei innamorato. Che sei diventato un patetico ridicolo sentimentale. Stai dicendo che io sarei uscita con te per chiudere il conflitto? Io mi fido di te. La trattativa la concluderemmo a Dubai. Adesso puoi anche fregarmi. Ma veramente sei tu che stai fregando me, però. Buono questo. Dicono che spina. Sì, io prima di usarlo ero sempre gonfia. Mentre adesso... Mentre adesso... Mentre allora...